Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Eccomi qui in questo video perché voglio farvi vedere la lista del restock Che sarà sabato, cioè domani, sabato 26 ottobre alle ore 17 sul mio shop Vi lascio il link qui sotto del mio shop, del mio instagram, sempre qui sotto in descrizione E niente, iniziamo subito col farvi vedere questi slime Allora, questo restock sarà principalmente, tra virgolette, un restock Halloween barra slime conita Perché questi sono appunto gli slime dello slime conita, che sono rimasti allo slime conita E gli slime che sono appunto di Halloween Allora, eccoli qui, questi sono i primi slime che vi voglio far vedere Allora, abbiamo qui tre box Questa prima box è una mystery box e si chiama appunto Halloween box Ci sono due slime da 4 o zeta all'interno Più delle paline marshmallow pizza e delle caramelle Tutto a tema Halloween Avrà un prezzo speciale Quindi vi consiglio di mettere il pro memoria per domani alle ore 17 Link in descrizione per il mio shop Quindi è una mystery box Poi, un'altra specie di mystery box Anche se non è una mystery box E' questa qui, questa zucchetta qui Che appunto contiene questo slime qui Che è super super perlato Ed è un'edizione speciale per Halloween È uscito il video oggi O domani uscirà, non lo so, sul mio profilo Instagram E questo slime è veramente bellissimo Ci saranno anche le caramelle Ovviamente queste sono poche, ce ne saranno di più E niente, questa qui è la zucchetta Anche questo avrà un prezzo molto molto speciale Anche se è una special edition di Halloween Poi un'altra special edition di Halloween È questo qui Il Vampire Drink Il Vampire Drink Vampire Drink è questo qui Che è appunto all'interno di questa bustina Molto molto speciale Del sangue Ricorda tantissimo il sangue E niente raga Questo slime qui è bellissimo Super super denso È trasparente e rosso Che ricorda tantissimo il sangue E appunto arrivare in questa bustina Insieme a una scatolina da 8Z Perché questo slime da 8Z Perché appunto è impossibile da richiudere questo slime Perché chiuso ermeticamente E appunto si apre E poi non si può più richiudere E niente, appunto questo slime avrà un prezzo super super speciale Poi un altro slime Che avete già visto anche qui nel canale Un'altra box, sbagliate da dire È la DIY Pizza Kit E appunto questa box Composta dalla base per fare la pizza Questa qui La salsa Aiuto La Mozzarella Queste qui che sono le foglioline E questa polverina per creare la bruciatura La pizza alla fine Vi verrà più o meno in questo modo Ovviamente questa qui è una riproduzione della pizza Eccola qui Ed è venuta davvero davvero carinissima Guardate L'ho messa anche in un cartone della pizza E niente Questo slime Questo kit È appunto un kit per creare la pizza Con lo slime Raga sto kit è veramente bellissimo Adesso iniziamo con gli slime Tra virgolette Normali Allora Ci sarà questo slime qui Disponibile domani alle ore 17 Cioè 26 ottobre Sul mio shop Link in descrizione Stavo dicendo Questo slime qui Che si chiama Gocholi cream È uno slime Butter Ed ha un profumo Di biscotti In una maniera assurda Veramente assurda È super 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 butter Ma nonostante ciò Super denso Arriverà insieme a questo charm A forma Di biscottino Guardate qui quanto è carino Di biscottino gocciole Ed è qualcosa di bellissimo Ha un profumo assurdo Questo slime Ed è anche super super inflating Solo che Adesso non ci gioco molto Perché sennò Perdo solamente tempo E niente Appunto Troverete anche questo slime qui Che è davvero super super profumato E spalmabile E oh mio dio Bellissimo Poi un altro slime Che ci sarà domani Sul mio shop È questo qui Amalfi Lime Questo slime clear Slushy Questo è uno dei miei slime Più belli Che abbia mai Creato Guardate qui raga Oh mio dio C'è una consistenza Bellissima C'è anche questo Limone qui E oh mio dio raga Adoro troppo I slushy Slime Comunque ragazzi Questi slime Sono stati disponibili Allo slime con Ica Di Salerno E vi lascio qui sopra Nelle info Se mi ricordo Il vlog Che ho fatto Allo slime con Ica E niente Questo slime Mamma mia Ragazzi raga Ma riuscite a vedere Ha una consistenza Super 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 Thick Non ci gioco più Perché se no Poi lo rovino Trovate tutti i video Di questi slime Sul mio profilo Instagram Se li volete vedere meglio E niente E niente appunto Sarà disponibile Anche questo slime Con questo Sharm Non questo proprio Però Uno sharm Simile Poi un altro slime Che sarà disponibile Domani È questo qui Japan Golden Mermaid Uno slime In edizione Super super speciale Con Universal Brother Ecco qui Il nuovo logo Di me E mia sorella Ludo Love Slime E niente Questo slime Ha una consistenza Bellissima Andrà mischiato Insieme a questa Foglia oro E a questa Coda di sirena Che è Mamma mia raga Bellissimo Questo slime Guardate quanto Caspita È bello Ha una consistenza Bellissima Non ci gioco tanto Perché sennò Poi si rovina Eccetera eccetera Trovate anche La recensione Di questo slime Nel canale Youtube Di Yolanda Switz E la conoscete Un po' tutti Ovviamente E niente Questo slime Ha un profumo Leggerissimo Di fiori Di ciliegio Che è buonissimo Raga Sto profumo Poi un altro slime Super super speciale Che sarà disponibile Domani È il DIY Zeppola dorata Allora Questo slime È molto particolare Perché è Composto Da Questo slime Qui Che era American Milk Ci sarà anche L'American Milk Però non ve lo mostro Raga perché Lo conoscete Veramente tutti E appunto Ci sarà anche Lui Cioè Questo slime Qui Ok Allargo un pochino Stavo dicendo Raga Ci sarà appunto Anche American Milk Che è questa base Qui Guardate quanto è densa Oddio che cosa ho combinato Vabbè Ho risolto E niente È qualcosa di bellissimo E questo Questa base qui In questo kit Andrà mischiata Con Questa zeppolina Qui Che ho creato Guardate quanto è carina È stra stra Carina Guardate quanto è bellina E niente Andrà mischiata Insieme a questo slime E diventerà appunto Un butter slime Super bello Uno slime Molto molto simile A questo È questo qui Di Hawaii Baba È formato appunto Da una base Clear Di questo colore qui Aiuto Che è un marroncino Che ricorda tantissimo Il rum Cioè Il liquore Con cui Vengono bagnati Baba E questo slime qui Trammischiato Con questo qui Che è appunto Il Baba Ok Ho distrutto Questa scatolina Dopo la vado a cambiare Comunque Stavo dicendo Arriverà insieme A questo Baba Qui Che ho sempre creato io E Ho cambiato coperchio Appunto Arriverà Anche questo qui Questo Baba E andrà mischiato Con questo slime qui Bellissimo raga Questo slime Questi slime qui Poi ci sarà Anche In questo restock Avion X Chiara Ferragni E questo slime qui È un mio Best seller Slime Super venduto In tutti i slime Con i tanni Porto veramente Sempre tantissimi E niente Guardate Quanto Caspita È clear Guardate Raga Quanto Caspita È Clear Oh My Goodness Cioè Oh mio dio Ha una consistenza Bellissima Questa nuova base E questo slime Arriverà insieme A questo occhio Qui Di Chiara Ferragni Che ho ricreato io Con il Fimo Ragazzo slime È qualcosa di Bellissimo Bellissimo Poi Un altro slime Che sarà disponibile Domani sul mio shop Ore 17 26 Ottobre È questo qui Unicorn Tears Fits È uno slime Ispirato a questo qui A questa bevanda Unicorn Tears Ed è Profumatissimo Ragazzi Di Caramella Cioè Di Chewing Mamma mia Mamma raga È una droga Il profumo di questo slime È Una Dannata Droga E lo slime È un duo slime Fits Ha una consistenza Bellissima Ragazzi Se volete vedere il video Di questo slime Andate sulla mia pagina Link in descrizione Pagina Instagram E niente Questo slime è bellissimissimissimo Ci sono anche questi unicorni E tutti questi glitter E arriverà insieme a questo charm Poi un altro slime Che sarà disponibile domani Alle ore 17 Sul mio shop È questo qui Questo slime qui Che si chiama Capitan Crunch Questo slime L'ha recensito Anche Yolanda Switz Nel suo canale YouTube E Le è piaciuto Veramente tantissimo Guardate qua raga Guardate Qua Ci sono anche Queste 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 cane Bellissime A forma di cereali Tutti Tutti colorati Cioè raga Oh My God Oh Mio Dio Oh Mio Dio Cioè raga Ma che Di che stiamo parlando Di che stiamo parlando Questo slime Ha un profumo Bestiale Veramente tantissimo Profuma Di frutti E di cereali Mamma mia raga Veramente Sembra Di Star per mangiare I Capitan Crunch Cioè I Fruit Loops Io ho assaggiato Solo i Fruit Loops Però mi hanno detto Che sono molto simili Ai Capitan Crunch Quindi Il profumo È molto simile Quindi Ho deciso Di ricreare Il profumo Perché appunto Era molto Molto simile Ai Fruit Loops Niente Poi Poi un altro slime Che sarà disponibile Domani sul mio shop È questo slime Qui Che è sempre a base vinilica E si chiama Dax Popcorn È uno slime Veramente Bellissimo Raga Veramente Bello Bello Super Super Crunch Guardate qua Quanto È Bello Ha una base A dir poco Strepitosa Guardate qua Oh mio dio Raga È bellissimo Ci sono questi pezzettini Qui Che sono dei finti Popcorn E sono bellissimi Poi tutte queste decorazioni Ricordano tantissimo Il popcorn E le paperelle E appunto All'interno di questo slime Ci sono anche queste paperelle Qui Guardate quanto sono belline E raga Questo slime Che ve lo dico È bellissimo È bellissimo Cioè L'avete visto Bellissimo Oh mio dio Poi è un profumo Buonissimo Di caramello Cioè Di Popcorn Caramellati In questi bordi Qui Si formano sempre Dei pezzettini Di slime secco Mamma mia che fastidio Poi Un altro slime Che sarà disponibile Domani È questo qui Che si chiama Ludo's Halloween Candy E appunto È uno slime Heisy Con questi occhietti Guardate Questo slime Qui l'ha Recensito anche Danny Boy Cioè Daniele Sul suo canale E niente Ha un Mamma mia raga Ha un profumo Buonissimo Di Menta Stavo dicendo Ha un profumo Bellissimo Buonissimo Di Menta E Ha tutte queste Caramelline Qui Candy corn Eccetera eccetera Che ricordano Veramente tantissimo Le caramelle Appunto Di Halloween E niente Questo slime Heisy Heisy Come l'ho detto Questo slime Heisy È davvero Bellissimo Poi Un altro slime Che sarà disponibile Domani sul mio shop È questo qui Che si chiama Water and Apple Jacks Guardate quanto Caspita È clear Mamma mia raga È È Con queste Marshmallow beads Bellissime Queste qui E colgo l'occasione Per dirvi Che da questo Restocchi in poi Sul mio shop Saranno disponibili Le marshmallow beads Sia bianche Che colorate Ebbene sì Avranno un prezzo stracciato Ci saranno anche delle Special edition Cioè Delle box Delle Tantissime cose Vedrete Vedrete Nei prossimi restocchi In questo restocchi Ci saranno solamente Quelle basi Che Questa bustina Allora Ci saranno queste Marshmallow beads Sul mio shop Ebbene sì Queste marshmallow beads Sono appunto Quelle neutre Bianche Oppure tutte queste Qui di mix Colori Queste sempre Bianche Queste Tiffany Queste azzurre Ci sono veramente Tanti colori Non tantissimi Però un bel po' Di colori Allora Appunto Questa qui è una bustina Da 32 Z Questa qui è una bustina Da 4 Z Poi se riesco Farò anche la bustina Da 8 Z E niente Poi Oltre a queste Bustine normali Ci saranno anche Queste qui Che sono Delle mini Box In cui ci sarà Lo slime Da mischiare Con tutte queste Marshmallow beads Bellissimo E appunto Questo slime qui È Il water and apple jacks Con queste Marshmallow beads Che guardate qui Raga Anche nel clear Si può vedere benissimo Non perdono Minimamente Colore Ok Quindi Come avete visto Non perdono colore Ci sono In questo slime Ci sono anche questi Piccoli cerealini Finti Cane Ok Ce la posso fare E niente È davvero Super super clear Questo slime È super super denso Poi L'ultimo slime Che sarà disponibile Domani Sul mio shop Ora 17 È questo qui Marshmallow Pastel Tricks È uno slime Sempre a base vinilica Mamma mia Questo slime È bellissimo Ha un profumo Buonissimo Raga Buonissimo Di marshmallow E mamma mia E mamma mia Che profumo Ci sono tutte Tutte queste Questi Questi sprinkles E arriverà insieme A questo Marshmallow Qui Mamma mia Bellissimo Ha una consistenza Bellissima Questo slime Mamma mia Raga Oh mio Dio Guardate quanto è Crunch Mamma mia Mamma mia Oh my god Bellissimo davvero E niente raga Come avete visto anche in questo slime Le palline non perdono minimamente colore Quindi sì Non perdono colore E niente raga Questi sono tutti i slime Che saranno disponibili domani Sul mio shop Alle ore 17 Vi lascio qui sotto Sempre il link Per andare direttamente Sul mio shop Basta appunto cliccare Su quel Su quel link E niente raga Ci saranno appunto Tutti questi slime Tutte queste box Questo slime qui Speciale Di Halloween Con appunto Il sangue Ci sarà questa zucchettina Qui Super speciale Il pizza kit Ci saranno veramente Tantissime cose Quindi ragazzi Vi ricordo Domani 26 ottobre Ore 17 Il mio shop Sarà rifornito Link in descrizione E niente Ci vediamo Bye bye Ciao